Pioggia, neve e vento, alberi divelti, fiumi in piena, locali allagati, torrenti esondati, cime imbiancate e mareggiate che hanno eroso la costa e danneggiato concessioni balneari. Questa la panoramica di quattro giorni all'insegna di maltempo persistente, con le prime precipitazioni nevose arrivate nell'entroterra e nelle aree montane, con la costa battuta invece da pioggia che è durata praticamente da quattro giorni, in che in questa mattina del 23 gennaio a Pesaro si è presa una tregua in linea con quella che era un'allerta meteo che prevedeva allerta arancione fino alle 14 odierne. In particolare in questo momento ci troviamo in prossimità della foce del fiume Foglia, fiume particolarmente attenzionato in questi giorni, fiume che si è ingrossato andando oltre gli argini abituali ma che non è esondato, però rimane comunque alta l'allerta corsi d'acqua in piena come il torrente Genica, notoriamente a secco, come vi mostriamo in queste immagini invece in prossimità della foce, completamente pieno di acqua appunto nella zona di Viale Trieste. Lo stesso di Casi per il mare, grande protagonista per quello che riguarda le mareggiate di questi giorni, mare in burrasca, specialmente su Fano dove i bagni Carlo sono stati particolarmente danneggiati, ce ne eravamo occupati tempo fa della necessità della richiesta di una scogliera sulla passeggiata dell'Elisippo. Ad esempio dai bagni Carlo parlano di catastrofe annunciata in mancanza della scogliera che ha danneggiato anche lo stabilimento di questa zona, così come il centro di biologia marina e il capannone dei vongolari. Mare che non ha risparmiato nemmeno le spiagge di Pesero. Qua vedete l'arenile di Baia Flaminia divorato dalla furia dell'acqua, così come sul litorale opposto il comune ha dovuto decidere di chiudere la pista ciclabile in zona sottomonte, resa impercorribile da fango e arbusti. Città di Pesero dove all'ora di pranzo si è riunita la sala operativa integrata che ha fatto il punto di una situazione giudicata in miglioramento dallo stesso sindaco Matteo Ricci. La situazione sta migliorando per fortuna, gli eventi meteorologici molto intensi stanno calando, il livello del fiume è un livello alto, abbiamo dei problemi intorno all'area del casello autostradale e quindi alcune aziende hanno deciso in maniera precauzionale di chiudere e si sta intervenendo, Enzo Belloni insieme alla protezione civile da ieri sta facendo un lavoro straordinario così come i vigili del fuoco e tutti gli altri, quindi situazione ancora critica però sotto controllo, la diga di Mercatale sta ricevendo molta acqua e quindi fa salvaguardia tutto l'alveo del fiume Foglia, però sono usciti diversi fossi e abbiamo avuto diverse difficoltà su tutto l'alveo fluviale e speriamo che le cose continuino così, l'altro problema è il mare perché in questi giorni e in queste ore il mare è molto grosso, abbiamo avuto onde fino a 3 metri e questo ha ridotto la capacità di ricezione delle acque fluviali e ci sta creando dei problemi lungo la ciclabile sottomonte, quindi la situazione è continuamente monitorata però il peggio sembra passato. Peggio che sembra passato ma i disagi abbondano, dalle centinaia di interventi di rimozione di rami e alberi caduti fino agli allagamenti. In queste immagini vi mostriamo marciapiede e cortile della scuola Rodari completamente allagati, così come risalendo le colline verso Carignano risultava inondato anche l'esterno del locale atipico Ciavarini. A Borgo Santa Maria invece il vento ha divelto la tensa struttura che copre la pista da hockey. Fuori da Pesaro diverse rotture degli argini fluviali. Il Foglia ha avuto straripamenti poi rientrati fra Montecchio e Montelabate, così come il torrente Absa e il Fosso Taccone. Fra Mombarocce e Villabetti il torrente Arzilla ha invece invaso le strade, così come il Tavollo ha creato criticità da Tavuglia a Gabicce Mare. Una Gabicce dove il Tavollo si è alzato a livello d'allerta e la protezione civile ha pattugliato i ponti per monitorare le eventualità di chiusure preventive. Uscendo dai confini della provincia di Pesaro Urbino, allerta massima Senigallia per il livello del Misa riabbassatosi poi nel primo pomeriggio. A Cantiano invece disagi contenuti con le precipitazioni, questa volta materializzatesi sotto forma di neve molto bagnata. Disagi ai quali si aggiungono pure le fake news che hanno attorniato la presunta apertura della diga di Mercatale, smentita dallo stesso Consorzio di Bonifica delle Marche e dall'assessore comunale di Pesaro Enzo Belloni. La diga ha grande capienza ancora, quindi nessun pericolo di apertura della diga, quindi eviterei di utilizzare Facebook per allarmare la popolazione, spesso questo fa più male del maltempo.